Il comune di Floridia si avvia verso la dichiarazione del dissesto finanziario. La giunta comunale guidata dalla primo cittadino Marco Cariani si è espressa verso tale direzione. Vi sono da tempo controlli sulle finanze dell'ente da parte degli enti preposti della procura. Le forze politiche chiedono un confronto per evitare le conseguenze che avrebbe il dissesto sulla città. Il Partito Democratico ha emanato una nota in cui sostiene che è falso affermare che nel bilancio del comune vi sarebbe un buco di 14 milioni di euro ma soltanto di 2 milioni di euro. È falso che negli anni passati siano stati approvati bilanci gonfiando i trasferimenti regionali e nazionali e che il comune di Floridia spendeva più di quanto previsto in bilancio. Pretendiamo che sia indicato, dicono dal Partito Democratico con precisione, chi abbia eseguito tali spesi a quegli impegni di bilancio senza copertura si riferisce. Il Partito Democratico ritiene che la strada del dissesto è quella più comoda ma quella che creerà più problemi all'ente e che si rivelerà un boomerang per l'intera comunità determinando un pesante danno economico per gli imprenditori o ancora l'ente che rischia di essere escluso dalla partecipazione a bandi. Abbiamo richiesto però i dettagli al primo cittadino Marco Carianni. Nel 2019 noi ricevamo da parte della Corte dei Conti una deliberazione. Questa deliberazione contemplava tutta una serie di anomalie riscontrate sugli esercizi finanziari 2015 e 2016 e appunto chiedeva all'amministrazione del tempo che poi è stata quella commissariale perché subito dopo la ricezione di questa delibera si era sfiduciato il sindaco Limoli di produrre delle misure correttive che consentissero all'ente di uscire da questa situazione così anomala e difficile. Il commissario ha operato tutta una serie di attività che poi si erano tradotte in delle osservazioni presentate appunto al cospetto della Corte dei Conti a gennaio del 2021 la Corte medesima ha risposto non soltanto rigettando le osservazioni che erano state fatte dall'ufficio ragioneria di concerto con il commissario ma anche contestando tutta una serie di anomalie analoghe a quelle degli esercizi precedenti 2015-2016 che si sono poi praticamente riverberati sugli esercizi a seguire quindi dal 2017 al 2019 coincidendo anche con quella che è stata la gestione commissariale. Abbiamo fatto insieme all'ufficio ragioneria una comparazione su un eventuale piano di riequilibrio finanziario ne abbiamo ravvisato la insostenibilità perché il disavanzo che noi dovremmo appunto ripartire con un eventuale piano di riequilibrio finanziario sarebbe troppo ingente e non sarebbe sostenibile per il comune. Abbiamo adesso prodotto un atto deliberativo che va purtroppo verso il dissesto, lo dico chiaramente perché su questo giustamente le forze politiche hanno chiesto un confronto, confronto su cui io manifesto la mia totale disponibilità però se tutte le forze politiche hanno modo di approfondire la situazione tecnico contabile dell'ente avranno modo pure di constatare come sia quasi impossibile determinare un eventuale prediscesso. Quali conseguenze negative e quali positive si hanno? Le conseguenze saranno che purtroppo soltanto per l'esercizio finanziario 2020 quelle imprese che hanno lavorato con il comune di Floridia si vedranno ridotto del almeno 30% i loro crediti nei confronti dell'ente perché la normativa che disciplina la dichiarazione di dissesto implica che eventuali crediti gestiti da un organo straordinario di liquidazione debbano essere ridotti. Poi per quanto riguarda la situazione tributaria voglio chiedere a tutti che già tutte le tasse sono al massimo non abbiamo grandissimi tributi quei pochi che abbiamo se sono quello sui rifiuti quindi latari e quella sul servizio idrico i quali seguono un principio di autofinanziamento quindi entra 100 deve uscire 100 e tutto questo è commisurato al costo dei servizi quindi non è previsto aumento di acqua non è previsto aumento di spazzatura e poi i benefici paradossalmente dovrebbero essere quelli di azzerare alcune quote di disavanzo che oggi sono scritte in bilancio e che purtroppo non ci consentono di dare seguito neanche ai servizi indispensabili. Se noi pensiamo che quest'anno per trovare 100 mila euro per dare seguito all'ASACOM un servizio indispensabile per la comunità tra l'altro obbligatorio per legge abbiamo dovuto veramente grattare il barile e cercare il risorso ovunque capiamo che è una situazione appunto troppo difficile che non può proseguire su questo solco che è stato tracciato quindi anche i servizi indispensabili ormai per il comune di Floridia è quasi impossibile essere erogati. È vero che c'è un'inchiesta della procura guardia di finanza che controlla. È vero che la deliberazione della corte dei conti è stata inoltrata alla procura della Repubblica di Siracusa ma questi sono atti pubblici poi per quanto riguarda le eventuali irresponsabilità di successori e predecessori io non sono nessuno per ecco stabilire stabilirle e commentarle mi limito a fare il sindaco c'è questo problema lo voglio affrontare non lo voglio rinviare qualcuno diceva la strada più semplice è quella del dissesto no la strada più difficile è quella del dissesto la strada più semplice purtroppo per per consuetudine era rimasta quella di rinviare i problemi e non affrontarli c'è questa situazione i problemi vanno affrontati